Buongiorno. Allora, la mia introduzione quindi vista dal punto di vista di un biologo, io sono una biologa nutrizionista, ecco sentite subito in sottofondo le piccoline, adesso adesso cerchiamo, scusate un momento, qui sono gli inconvenienti dello stare a casa, smart working e in solitudine. Allora, riprendiamo, questo il mio interesse quindi da biologa nutrizionista è sicuramente di fare prevenzione e prevenzione per quanto riguarda quindi la salute dei nostri pazienti che come ben sappiamo tutti noi professionisti della salute abbiamo di fronte ogni volta ci troviamo persone con storie e vissuti, esigenze molto diverse l'una dall'altra, cosa che magari gli specialisti forse trovano meno quando si rivolgono ad un medico specialista già abbiamo un indirizzo quindi della situazione. E facendo, ecco, entrando poi nello scoprire queste nuove strategie, queste nuove tecnologie, professionisti preparati e quindi ecco io sono rimasta veramente colpita e sono entusiasta di poterne parlare e diffondere la conoscenza scientifica, ecco, di un progetto che è veramente innovativo. Ho riportato qui il programma perché volevo ringraziare tutti questi relatori che sono dei medici di uno spessore veramente importante e vi ringrazio per il tempo che ci dedicate, ringrazio per il tempo dedicato alla nostra formazione. Ecco, io veramente sono grata di questi momenti perché non è scontato che di sabato noi mettiamo a disposizione quel poco tempo che abbiamo nel nostro tempo della nostra vita privata per poi metterci a disposizione di fare formazione per tanti professionisti che hanno voglia ancora di mettersi in gioco e di imparare. Quindi eccoci, cosa si intende per prevenzione? Io sono andata un pochino a vedere che cosa vogliamo intendere per prevenzione ed è l'insieme di azioni finalizzate ad impedire che ci sia la probabilità che si verificano degli eventi non desiderati. Quindi noi dobbiamo agire per prevenire delle situazioni di malattia, di patologia e questo che cosa nella mia pratica clinica vuol dire aiutare le persone a vivere meglio con un'alimentazione sana e uno stile di vita sano. Infatti qui vedete alla fine l'incolumità di persone, animali o infrastrutture e noi rientriamo nella prima categoria. Secondo quindi la promozione della salute, io ho riportato questo estratto del sito dell'Istituto Superiore di Sanità in cui ho sottolineato proprio questa questa enormità, una percentuale dell'ottanta per cento dei casi di malattie cardiache che poi sono la prima causa di morti nel nostro paese, specialmente per quanto riguarda le donne, gli incidenti cardiovascolari. L'ottanta per cento sarebbero, potrebbero essere evitabili se siamo risposti a modificare il nostro stile di vita. E uno stile di vita che cosa intendiamo? Intendiamo sicuramente la dieta perché naturalmente incide tantissimo sul nostro stile di vita e soprattutto sul appunto progredire di queste patologie. In una moderna concezione di promozione e prevenzione devono essere incentrate sui fattori di rischio modificabili. Modificabili? Eccoci, alimentazione, attività fisica, tutti argomenti che poi troveremo più avanti, esposti con veramente saggezza e conoscenza. In questo ambito, in accordo con le politiche promosse dall'Agenzia Mondiale della Sanità e adottate dalle normative nazionali, si ispirano a principi cardini dei persone di fare scelte responsabili. Quindi noi dobbiamo veramente insistere su questo ed io nella mia pratica lo faccio veramente con tanta passione, ce la metto tutta per riuscire ad spronare queste mie pazienti. Io parlo soprattutto al femminile perché sembra che siamo un po' più sensibili noi donne per quanto riguarda la richiesta di aiuto al biologo nutrizionista, ho veramente un'incidenza maggiore di donne come pazienti. Ora volevo passare dall'altra parte di questa nostra esposizione di stamattina perché oltre alla prevenzione parleremo poi di epigenetica. Questa sconosciuta direi un po' con il sorriso sulle labbra perché essendo veramente stato questo termine è stato introdotto nel 42 quindi proprio diciamo di pari passo con la genetica con la scoperta del dna però è stata sempre rimessa un pochino in disparte e l'epigenetica studia tutte quelle modifiche tutti quei cambiamenti che sono in grado di variare il fenotipo di un individuo senza alterarne il genotipo. Quindi noi tutti che abbiamo un genotipo pressoché identico siamo totalmente diversi l'uno dall'altro e non è possibile che lasciamo da parte questa questa parte dell'epigenetica come se fosse una branca della biologia ma ecco di secondo di un secondo livello di serie B e qui è spiegato veramente brevissimamente molto stilizzato che cosa si intende per l'epigenetica che quindi abbiamo le variazioni di metilazione e acetilazione per quanto riguarda gli stoni che sono le proteine che avvolgono il dna ed in base a queste modifiche noi avremo l'espressione di un gene o il silenziamento di questo gene ed è per questo che poi questo impatta tantissimo sulla codificazione e la produzione di poi proteine. La modificazione epigenetica in risposta agli stimoli ambientali esterni che riguardano l'ambiente, il nostro stile di vita e qui avremo praticamente incentrata tutta la nostra mattinata di seminario e il nostro stato di salute. Tutte queste variabili impattano tantissimo sull'espressione dei geni. Naturalmente questo è un cambiamento adattivo operato dalle cellule e tali cambiamenti possono essere fisiologici totalmente normali richiesti dal nostro organismo oppure come succede in caso di patologie nel caso di disturbi mentali o dei tumori questi cambiamenti sono patologici e sono assolutamente da evitare e quindi è qui che entriamo in campo noi con le nostre prevenzioni. Nell'ultima slide ho riportato appunto l'introduzione di quello che è questo test veramente eccezionale, uno strumento validissimo che si chiama S-Drive appunto. Per qualcuno potrebbe essere una novità, qualcun altro magari ne ha già sentito parlare ed è qui perché vuole approfondire. Ecco, io trovo che sia veramente uno strumento grande ed importante. Ci dà una grande quantità di informazioni sulla salute dei nostri pazienti. Ovviamente io biologa non uso questo strumento per fare diagnosi di nessun tipo, è solo che ci si avvale per un aiuto e per andare incontro appunto delle esigenze oggettive del nostro paziente. Le informazioni che vengono utilizzate per creare un report nutrizionale su misura e questo ci viene dato già, diciamo questo report ci viene consegnato dalla, è un report che abbiamo ma ovviamente quelle indicazioni se poi abbiamo di fronte il professionista della salute possono essere sempre personalizzate. Ovviamente quello è la nostra base di partenza e e dobbiamo educare le persone sui fattori impattanti e qui li troviamo veramente poi tutti quanti elencati ben specificati li vediamo qua e abbiamo un report dettagliato anche di cose che magari ecco per chi non è abituato ad utilizzarlo sono impensabili no? Quindi sull'impatto delle microonde oppure sui metalli pesanti che possono essere presenti nel nostro organismo e tutto questo viene visto attraverso un semplice test su i capelli quindi veramente non è neanche un test invasivo ma veramente è un aiuto grande per noi professionisti per poi raggiungere il benessere dei pazienti ovviamente perché più pazienti abbiamo in salute più persone abbiamo in salute in Italia e meglio sarà per il nostro futuro perché andando avanti così insomma le previsioni non sono delle migliori specialmente io mi occupo tanto dei dei giovani dei ragazzi e insomma data anche la situazione la percentuale di ragazzi in sovrappeso di obesità è veramente preoccupante ed è preoccupante perché non c'è consapevolezza poi del mangiare bene io ecco mi spendo tanto per fare prevenzione all'interno delle scuole e insomma è difficile trovare dall'altra parte una buona risposta sia dai ragazzi che dai genitori tante volte ecco noi veramente dobbiamo aiutare aiutare i nostri pazienti aiutare noi stessi poi perché con una maggiore conoscenza della persona che abbiamo davanti raggiungiamo degli obiettivi che magari prima non non saremmo riusciti a raggiungere ecco quindi vi lascio a questa mattinata di di conoscenza di formazione e a questo momento veramente prezioso che non ci facciamo sfuggire ecco vi ringrazio veramente per questo invito adesso posso